veramente lo state traumatizzando guarda coso coso frate coso però fa male no 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 non fa male bene da prima ma come dici bene da venerdì il donato il donato il donato il donato il donato watched i pens i i ha hai dicono ' ... che è? ma se ne viene... ma questa è la rosetta in una salata io l'ho messo già anche di qua in modo che tu non puoi arrendere vai sia di qua che devi tirare la siena a questo punto, non ti rimanco a palla �� persa, di un po' vicino e un' testa fa malissimo è il fatto... non è che... non ho fatto male